Nicola, io ti volevo dare i complimenti per l'animazione Sei stato veramente bravo a tutti quanti Ma tu un attimino in più Ci hai messo passione, ci hai messo calore Noi ti ringraziamo Grazie, grazie Tutta la nostra comunità Sei veramente il più grande animatore del gruppo Comunque rimane sempre Nottra Maul Nottra Maul, un grandissimo Nottra Maul Ciao amici di Facebook Mi voglio bene Nottra Maul Questa è un po'